Attraverso il progetto Startup, cofinanziato nell'ambito del Fondo per Equazione 2014, coordinato da Union Camera e Piemonte, la Camera di Commercio di Cuneo si pone l'obiettivo di favorire la diffusione sul territorio di una cultura imprenditoriale, realizzando un percorso gratuito di accompagnamento, dalla definizione dell'idea alla nascita effettiva della nuova attività. Dopo le due giornate di presentazione del corso rivolta ad aspiranti imprenditori e neoimprese, il progetto ha riscontrato il favore di un elevato numero di aderenti, entra nel vivo con quattro incontri da metà aprile a inizio maggio, in cui verranno affrontati i punti fondamentali per dare vita a un'attività, dal business model canvas alle varie forme giuridiche, agli adempimenti amministrativi, alle nozioni fondamentali sugli aspetti economici e finanziari riguardanti l'impresa. Il presidente dell'ente camerale Ferruccio Dardanello ha evidenziato che il corso offre agli 85 nuovi imprenditori iscritti nozioni teoriche basilari sull'impresa e propone esercitazioni sulla costruzione di un business plan economico e finanziario.